In prossimità del Santo Natale il Vescovo Mario Russotto invita i fedeli a incontri e riflessioni e venite alla festa è il titolo della lettera del Vescovo che orienta l'anno pastorale in tutta la Diocesi. Il Vescovo Russotto non si ferma un secondo, dal giorno dell'Immacolata è andato un po' dovunque a portare sollievo e speranza con la parola di Dio. Proprio oggi ad esempio si è recato nell'istituto penale minorile per impartire le cresime, mentre nel pomeriggio ufficerà la Santa Messa nella Cappella Maggiore per l'Associazione Amici del Seminario. E ancora domani, sempre nella Cappella Maggiore, celebrerà la Messa per i volontari della Caritas che tantissimo fanno per chi ha bisogno. Invece sabato alle 19.30 in Cattedrale la Messa di Natale sarà dedicata a tutte le aggregazioni laicali che compongono la consulta diocesana. Il 23 sera nella parrocchia San Giuseppe saluterà i componenti del Lions Club e infine la tanto attesa veglia di Natale del 24 comincerà alle 23, al termine della quale il bambinello sarà portato al presepe vivente nel quartiere Angeli organizzato dalla parrocchia San Domenico, dove sarà deposto nella Mangiatoia. Martedì 25, esattamente il giorno di Natale, il solenne pontificale in Cattedrale alle 10.30 concluderà le celebrazioni del Santo Natale.